La cultura continua a vivere nelle case dei bitontini ma non solo. Tuttavia, i pensieri volti alla ripartenza delle inerenti attività non mancano. L'assessore al marketing territoriale Rocco Rino Mangini, a tal proposito, ha parlato di un'azione comune che deve coinvolgere tutti nel reinventare la proposta culturale della città di Bitonto, nonostante si debba agire inizialmente nel rispetto dell'imperativo attuale del distanziamento sociale e all'insegna di una ripresa economica. Si tratta di riportare pian piano la gente a vivere la cultura per le strade e le piazze, che permetterà ancora di riscoprire le bellezze della città. È una specie di momento zero da cui ripartire magari con idee innovative, con un pensiero nuovo sulla cultura. Su questo sono pronto ad aprirmi e siamo pronti ad aprirci. anche a proposte, idee e progettualità, anche le più stravaganti, affinché si possa capire insieme come rilanciarci appena sarà possibile. Non si potrà tornare alla normalità probabilmente nel più breve tempo possibile, ma nessuno sarà solo. Ci saranno sicuramente degli aiuti per le imprese. Infatti, sono al voglio le misure più consune da attuare, facendo particolare attenzione a quei settori che risentiranno maggiormente delle conseguenze di questa pandemia. Come amministrazione comunale ci siamo. Lo abbiamo già dimostrato con la misura Risto a Casa, che ovviamente è una misura che va a beneficiare quei cittadini non autosufficienti, che non sono in grado non solo di fare la spesa, ma anche magari di prepararsi un pasto, coinvolgendo la rete dei ristoratori, quindi dando un pochino di respiro anche a questa categoria. Ma è solo un esempio, quindi siamo attenti alle esigenze di tutti, anche dal punto di vista fiscale. Stiamo prevedendo delle misure di alleggerimento della pressione fiscale per quanto riguarda ovviamente i tributi comunali, proprio per quelle categorie economico-commerciali più colpite.